adesso parliamo del multiplayer principale in questo gioco colpendo light e lock le due luci verdi accenderanno i lock adesso il primo l'ho già fatto quindi la luce fissa e seconda luce lampeggiante è disponibile per essere preso colpendo il target sinistra mancante accenderò anche il terzo adesso proviamo a lock la seconda questo è il secondo lock adesso do cercare di prendere il target sinistro e mandare un'altra palla in centro proviamo con la seconda palla anche io un po pericoloso bisogna sempre cercare di tirare verso il centro adesso proviamo con la terza la palla sarà incostrata adesso partire dal multiball scopo di questo multiball è tirare la rampa inferiore ovviamente l'obiettivo è mandarle a far tornare sulle palline per richiara in quella avanti andiamo su un'altra i due e l'unico Grazie per la visione!